La Fondazione Sartiglia detta le regole per la Sartiglia 2019. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico della Fondazione si sono riuniti ieri. Alla seduta erano presenti il Presidente della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Fondazione, i coordinatori responsabili degli uffici, il Vice Sindaco e Assessore Competente, le presidenze dei due gremi e gli ex Vice Presidente e Segretario dell'Associazione Cavalieri. Durante la riunione si sono evidenziate le criticità derivanti dallo scioglimento dell'Associazione Cavalieri. Per questo motivo si sono definite nuove modalità per garantire la corretta iscrizione dei cavalieri e dei cavalli per la partecipazione alla prossima edizione della giostra. Le selezioni saranno organizzate e gestite in maniera autonoma dall'ex Associazione Cavalieri. Gli adempimenti previsti seguiranno il seguente calendario. Dal 22 gennaio al 1 febbraio l'iscrizione dei cavalieri. Il 9 febbraio e il 10 febbraio visite veterinarie. Il 17 febbraio le selezioni. Secondo quanto previsto dall'ordinanza inerente alle manifestazioni popolari pubbliche, e questa è la vera novità della riunione di ieri, prima della Sartiglia, ma soprattutto prima delle selezioni, si procederà a controlli a campione mediante narcotest e alcotest sui cavalieri e antidoping a campione sui cavalli. Grazie.